...la possibilità del suo manco che spesso ci sono dei strumenti, il corpo è anche a tutti della qualcosa, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Siamo fatti, sottotitoli, o a questo punto, di tutto, di problema, come questo punto del parco è anche estremamente zero, è più duro, per sottotitoli, se capisco bene, la letteratura che decide a fare, di cosa vuole parlare, a quale è la sensibilità della formula. Grazie. Grazie. Grazie.